Ninfea A-S-M-R Ciao a tutti ninfetti, come state? Oggi vi porto un video piuttosto leggero che riguarda la mia collezione di trucchi E voi non avete idea di cosa io abbia qui davanti Ho due cosi giganti che di solito sono infilati Nel mio cassetto Il primo cassetto del comò, quindi nella mia camera da letto E io mi trucco sempre in camera da letto E ho la mia postazione trucco lì, perché in bagno non ci stava Quindi sarà un video sicuramente piuttosto lungo e spero abbastanza interessante per le beauty addict Allora, inoltre credo sia abbastanza rilassante il rumore dei trucchi Io partirei dalle cose che bene o male voi conoscete Per il viso, che sono poche E allora, qui c'è la mia cipria della Makeup Forever La HD, uso sempre questa, è ottima Poi c'è il mio correttore, il cancella età di Maybelline Ma uso anche, questo è un bottino che in realtà è abbastanza vecchio di MAC Infatti è praticamente finito Che utilizzo talvolta per coprire le imperfezioni Perché questo è ottimo per le occhiaie Ma per le imperfezioni un po', così così E poi ho i miei due fondi di Sephora Uguali, è sempre il Ten Hour World Perfection Foundation Ma in due colorazioni diverse Questa la uso come intuirete nel periodo estivo perché è più scura E questa che è più chiara nel periodo invernale O almeno finché io non comincio ad avere un colorito sano E infine c'è la mia BB Cream quasi finita Di Pupa Ah no, è anche un'altra BB Cream Questa di Kiko Aspettate che cerco di tirarla fuori senza fare casino Questa qui La Green Me Nella colorazione 102 Molto carina Poi sempre per il viso ho il piccolo Primer di Make Up For Ever Questo ve l'ho mostrato in qualche Get Ready E' un illuminante che credo di non usare dal 15-18 Che è il Light Beam di Benefit Che in realtà è molto carino Ma essendo Fluido così E' molto Come dicono le Make Up Artists Molto speum Però il suono è bellissimo Però il suono è bellissimo Poi per il viso vi mostro i blush che utilizzo L'ultimo acquisto è questo Il Beaches di MAC Che adoro per la colorazione Davvero molto pescata Ma non smorta E' un pescato che comunque Dà un bel colorito Sempre di MAC Ho questo che praticamente ormai è quasi finito Ed era lo Spring Sheen Che aveva dei piccoli glitterini Ma era sempre come vedete un pescato Diciamo un pescato un po' più shimmer Ovviamente i rumori troppo forti Ve li attenuerò in post-produzione Non temete E' sempre di MAC Ho un altro residuato bellico Che tengo Perché era uno dei miei colori Proprio preferiti in assoluto Quindi il packaging di Hello Kitty Era il Fun and Games Intanto si è aperta la confezione Devo sistemarla Era questo pescato Davvero davvero chiaro Che mi ricorda una colorazione di Mulac Che volevo prendere Però non ho mai avuto modo E infine l'ultimo mio blush E' questo di Mulac Che è molto più rosato rispetto agli altri Ed è il Belle Anche lui poverino Una volta mi è caduto E si è rotto Il coperchietto Eccolo qui Inoltre come ultima polvere Per il viso Ho questa che è di The Body Shop Nature's Minerals Che è una Una sorta di terra Terra blush Più sul cotto E' abbastanza carina Anche se non la uso spesso Perché preferisco i compatte Rispetto alla polvere libera Però è carino Ho anche Dei vecchi Fondi minerali Di Quella che all'epoca si chiamava Trucco minerale Che poi nient'altro è Che l'attuale Neve Cosmetics E questi non scadono Essendo polveri minerali Però Non li utilizzo quasi mai E' davvero raro Che aumenta il fondo Tinta minerale Da quando sono arrivate Le BB cream Ah ho anche Questo blush Di Kiko In crema Che in realtà Uso come lucidalabbra Perché aveva la doppia funzione Ma come blush Sinceramente E' terribile Perché Unge Letteralmente Le guance Si chiamava Glow Touch Il colore è molto bello E qui diceva proprio Lucidalabbra E fard E l'odore è molto buono Bene Passiamo ora Ai prodotti Labbra Io qui ho tutta la panoramica Delle mie cose In modo che non mi scappi niente Allora Come rossetti Sono davvero Molto ben fornita E ho soprattutto Tinte labbra Questo è l'ultimo Rossettino Che ho preso E avete visto Nell'ultimo Get Ready Che è questo Rossettino Di Pupa Colore proprio Viola Violone Eccolo qui Io ho un po' Il fetish Dei perfumi Dei rossetti Bellissimo Molto dark Molto E anche il back È davvero carino Con questi glitterini Poi Accelero un po' Quei rossetti Altrimenti Questo video Tura fino A domani mattina Perché Farveli vedere Tutti Ma potrei anche Toglierlo Dalla confezione Questo rossettino Dopo la butto Nel nero Nella carta Scusate Poi Vi mostro Le tinte labbra Di Wicon Cerco di prenderle Tutte Dovrebbero essere Queste Queste sono Le mie tinte labbra Di Wicon Che non mi dispiacciono Non sono Le tinte labbra Migliori Che Ho mai avuto Ma per il rapporto Qualità Prezzo Che hanno Non sono male E sono Questa che è in assoluto La mia preferita È un bel colore Borgogna È lo 04 Perla Perla Sulle labbra Veramente Un'ottima resa Poi Questa Che è la tinta Viola Che avevo Nel video Della Tattoatrice Quindi Nel roleplay Nel quale Interpretavo La tattoatrice Poi Questo È un colorino Sul lampone Fragolina È il numero 37 Ha il viola Era Se volete Saperlo Il 32 E infine Ho questa Che non è male Infatti È quasi finita È la numero 26 È un Sì Anche questo Forse questo È più Un lampone Lampone Con un Sottotono Fucsia Io non sono Un mago A descrivere I colori Poi Le mie tinte labbra Preferite In assoluto Sono quelle Di Mulac E ne ho Parecchie Cioè Parecchie Diciamo che Sono riuscita A prendere Quelle Che proprio Mi facevano Impazzire Forse Ho più Rossetti Di Mulac Anzi Decisamente Ho più Rossetti Perché le tinte Temo di averne Dimenticate Un paio Nella Trousse Che utilizzo Per i Concerti Vabbè Quelle che ho Dimenticato Sono la Just like a drop Quella scura Quella che Somiglia A rossetto Rudolf Se riesco Ve le farò Rivedere Qui a portata Di mano Milf 2 Bellissima Anche quella Che indosso Oggi Poi ho Questa Che è Hocus Pocus Credo No Ho detto Una capolata Questa si chiama Psychedelic Ed è la Numero 33 Bellissima Questa Ve l'avete Vista Anche in Un Get Ready È pazzesca Facciamo parte Della Collezione Kali E infine La Prima Versione In assoluto Di In My Party Suit Adesso Che hanno Rifatto La Collezione L'hanno Rimessa In commercio Con il Nuovo Pack Quindi con I bordi Più taglienti Non più Stondati Che trovo Anche più Elegante Quindi ripeto Purtroppo Ne ho due Che sono Disperse Nella mia Trus Dei concerti Che per un po' Temo Purtroppo Non utilizzerò Poi Sempre Di Mulac Ho Molti Molti Rossetti Allora Questi Sono I rossetti Di Mulac Ve li Mostro Ad uno Allora Questo È Flamingo Che è un bellissimo Fucsia scuro Veramente Bello Che in realtà Utilizzo poco Non so perché Poi Questo è Rudolf 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 Che è questo Bellissimo Bellissimo Rudolf È uno dei miei rossetti Preferiti Di Mulac Perché È comunque Abbastanza spento Come colore Ma bello scuro Molto È adatto Per l'autunno E l'inverno Poi ho questo Che si chiama Bollywood Sempre Della collezione Gali Con questo Stuccino Satinato Quasi gommato Che è Splendido Di questo Bel Blu Petrolio Ed è Un Mattone Però Piuttosto intenso Forse Voi Dalla Fotocamera Non lo Vedete Così intenso Com'è In realtà È veramente Molto Bello Spesso Tutti questi Me li avete Visti Indossati Perché Perché sono I rossetti E le tinte Che porto Abitualmente Poi Con questo Pack Rosa Perché facevo Parte Se non erro Della collezione Feminine Ho preso Wilf Che è questo Rossettino Che ho utilizzato Parecchio C'è un belucco Che È la versione Fredda Di Milf Veramente Bello Questo Ha un sottotono Più freddo Tra l'altro Rumori Che fanno I coperchi Dei rossettini Poi Questo Se non erro È Marilyn Della Primissima Collezione Uscita Che ha Questo Bello Colore Rosso Fragola Perché Ha Una Componente Rosa Piuttosto Visibile Infine Per concludere La panoramica Dei rossetti Mulag C'è questo Che è Miss Grace Che faceva Parte Della Collezione Adesso Non ricordo Come si chiamasse Ma Era una Collezione Che Devolveva Un tot Dei ricavati Alla Ricerca Contro Il tumore Al seno Ed è Questo Belle Nude Molto Morbido Molto Idratante Piuttosto Chiaro Molto Confortevole Come Rossetto Da tutti I giorni Poi Vi mostro I rossettini Di Mac Ne ho tre Nel loro Classico Pack Che sembra Una supposta Concedetemelo Bene Non riceverò Mai Offerte Di collaborazione Da Mac Allora Questo è il mio Preferito Di sempre Che è Sea Sheer E infatti E infatti Finito Totalmente È piatto Finito Ed era questo Corallo Meraviglioso Infatti Conto di scavicchiarlo Per estrarre Gli ultimi Residui Bellissimo Molto Lucido Sulle labbra Non è un rossetto Matte Ma veramente Dà proprio Un colorito Sano Da tutti i giorni Meraviglioso Poi Ho questo Che è L'amplified Watch me simmer Ah no Amplified È la Categoria Watch me Simmer Ed è questo Rossetto Pazzo Che avevo Nelle clip 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 Dell'ultimo Tryon Alde Sheen Ed è questo Fucsia Con base Quasi fluo Aranciata Che mi Sa di Primavera Esplosiva Proprio Bello E D'estate Un po' Perde Perché con L'appronzatura Risulta un po' Troppo chiaro Ma in primavera È il top Però se ti Ti mancano Un odore Buonissimo A mio avviso Molto Talcato E infine Ho il classico Russian Red L'intramontabile Che anche lui È quasi finito Che dire Lo conoscete tutti È un Il rosso Perfetto Quando indosso Un rossetto Rosso È sempre lui Poi ti degno E ti nota Perché poi Ho tanta roba E voglio farvi vedere Un po' Tutto Ti degno Di nota Ho Questo mini Rossettino Che si chiama Griselda Di Fanti Piuti Che è un Bordò Molto Molto Scuro Vedete Però Differente Dal violone Di pupa Che vi ho fatto Vedere All'inizio Poi ho Questo Rossettino Di Kat Von D Stupendo Nella colorazione Double Dare Che avete già visto Nei miei Nei miei Get Ready Perché lo utilizzo Spesso È questa Sorda Di nude Scuro Con Una punta Di corallo Tra il mattone E il corallo Bello 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 Davvero Non è escluso Che io mi prenderò Full Sides Quando Terminerà Poi Questo Me lo chiedete Molto Spesso È una tinta labbra Di Mina Che è un brand Che prima c'era a Milano In Corso Buenos Aires Adesso non c'è più Ho visto che hanno chiuso Il negozio Ed è una tinta Metallizzata Di questo color bronzo Vedete Che io utilizzo spesso Al centro labbra Come punto luce È veramente Bellissima Ha una consistenza Molto Leggera Sulle labbra Quindi si può stratificare Bella Poi ho La tinta labbra Di Jeffrey Star Che mi ha regalato Sharon Tra l'altro Sharon mi manca tantissimo Non ci vediamo Da tantissimo Per me ovviamente È della quarantena Quindi se mi stai guardando Ti mando un bacione grande E appunto La tinta di Jeffrey Star Nella colorazione Jeffrey Who Che ha un bellissimo Rosa scuro Fucsia Ma non Sparaflesciato Rimane comunque Piuttosto Piuttosto scuro Ovviamente Matte E Dulcis In fondo Ho Allora Un altro Rossettino Di pupa Che è questo qui È il numero Cento Che è un nude Perfetto Idratante Bastanza chiaro Ma non troppo È veramente Bellissimo E lo utilizzo Soprattutto Al lavoro Quando voglio qualcosa Di semplice E infine Ho i due rossettini Di due collaborazioni Questo Arriva da New Chic Che non mi dispiace In realtà Mi avevano segnalato Alcuni di voi Di guardare bene Gli ingredienti Perché se è un prodotto Cinese Ci poteva essere Il rischio Che contenesse Qualcosa di strano Io ho guardato Molto molto bene Gli ingredienti E non c'è nulla Di anomalo Quindi ogni tanto Non spesso Lo utilizzo Della marca We Best E infine Il rossettino ASMR Quello nude Che vi avevo mostrato Della marca ASMR ASMR Questo è proprio Il pack Che l'odore Tutto Pensato Per essere ASMR Quindi per stimolare I sensi A 360 gradi Poi Per le labbra Abbiamo Praticamente Finito Ho anche Due matite Che però Non utilizzo Quasi mai Una nude E l'altra Bordeaux Di Debbie Ma Queste Visto che Utilizzo Molto spesso Le tinte labbra Non necessitano Della matita Per andare A definire I bordi Perché Già la tinta labbra A mio avviso Definisce Molto bene Il bordo Delle labbra E poi Rischierei Un effetto Un po' troppo Anni 90 Che a me Non piace Preferisco Piuttosto le labbra Tutte Dello stesso colore O con il leggero Effetto Ombre Delle tinte labbra Più o meno Dello stesso colore Ma Di una tonalità Più chiara O più scura Poi Passiamo ai prodotti occhi Che sono veramente tanti Mi ero dimenticata di dirvi Per quanto riguarda il viso Che utilizzo La Beauty Blender Che ho usato Poco fa Per truccarmi Quindi È sporca Io la lavo molto spesso Ne ho comunque Un'altra Che non ho ancora Aperto Ancora confezionata E un'altra cosa Che mi ero dimenticata Del viso È il mio Prep and Prime Di MAC Il visatore Del trucco Che uso solo Ed esclusivamente Quando Finisco il trucco Per una serata musicale Quindi Visti i tempi Farò in tempo a scadere No Scherzo ragazzi Oggi sono Un po' pessimista Riguardo al mio futuro Di cantante Sto scherzando Allora Passiamo ora Ai prodotti Occhi Io ho diviso I miei Raccoglitori In sezioni Quindi È per questo Che ho tutto Ben Soddiviso Allora Come Matite occhi Che utilizzo Molto Molto Spesso Ci sono Le due Di Puba Che ho comprato Recentemente Marrone Marrone Chiara E marrone Scura Molto Belle Molto Scriventi Molto Morbide Sono Nella Colorazione 69 E 70 Della Collezione Multiplay Belle Poi Ah ovviamente C'è il mio Solito Primer Occhi Della Urban Decay Il Primer Potion E Utilizzo Come Altre Matite Vediamo se Riesco a Prenderle Senza Fare Danni Questo Eyeliner Semplice Semplice Numero 01 Credo Fosse Di Puba Non Ricordo Non Ha più La Marca Perché È Diventato Troppo Piccolo Poi Utilizzo Questa Matita Di April Se Non Erro Verde È Molto Carina Mi Piace Ogni Tanto Truccarmi Di Verde Come Mascara C'è Assolutamente Una New Entry Perché Mi Sta Terminando Il Mio Solito Full Slash Effect Di Max Factor E Ho Voluto Sperimentare Una Novità Il Puba Vamp All In One Ed Oggi Quindi L'ho Provato Per La Prima Volta In Questo Trucco E Devo Dire Che Non Mi Dispiace Trovo Si è Un Pochino Meno Rinfoltente Se Così Si può Dire Rispetto Al Full Slash Però Mi Da Proprio La Sensazione Di Allungare Le Ciglia Pettinarle Bene Quindi È Promosso Dovrò Vedere Come Si Strucca Poi Ho Questo Eyeliner Che era Quello Di Kat Von D Che è Quasi Giunto Agli Scoccioli Infatti Lo sto Ancora Utilizzando Ma Comincio A vedere Che fa Un pochino Di Fatica Quindi Poverino Poi Ho Questa Matita Sempre Di Puba La Numero 27 Che è Un Marrone Ancora Più Chiaro Rispetto Al Marrone Che vi ho mostrato Prima Proprio Una sorta Di bronzo Doratino Molto Carina Altra Matita Nera Che uso Spessissima Che è Ancora Più Nera Rispetto Al Cajal Che vi ho mostrato Prima E questa Di Max Factor Che ha Da una Parte La Matita E Dall'altra Lo Sfumino In Penso Siricone Poi Ho Una Matita Blue Petrolio Di Puba È Un Cajal E Ha Lo Scotch Perché Si è Rotto Il Il Tappino Puro Troppo Ho Questa Matita Che è Un Marrone Rossiccio Di L'Oreal Con dietro Lo Sfumino Ho Una Matita Di Essence Che è Un po' Datata A dir La Verità Che È Un Nero Metallico Molto Carino Anche Questo È Molto Morbida Molto Scrivente Poi Vediamo Ho Un'altra Matita Marrone Che ha All'interno Dei Glitterini Dorati Che è Una Dei Pastelli Quindi È Il Pastello Di Neve Makeup Nella Colorazione MO27 Non ho Ancora Moltissime Cose Ho Questo Matitone Lo 013 Di Pupa Che è Un Color Burro Che Spesso Utilizzo Come Illuminante Nella Zona Interna Dell'occhio Quindi Nell'angolo Interno Molto Carino È Proprio Un Colore Burro Ho Una Matita Grigia Di Wicon Che Utilizzo Spesso Nella Rima Inferiore Per Andare A Definire Un Po Il Trucco Senza Che Sia Magari Pesante Come Un Nero Carina Versatile Poi Vi mostro Alcune Alcuni Ombretti Che ho Questo È L'ultimo Acquisto Che Vi Avevo Già Mostrato Di Pupa Questo Ombretto Olografico Della Collezione Summer In LA Ah Mi Ero Dimenticata Della Matita Per Sopracciglia Che E In Un Altro Scompartimento Temo Di Aver Lasciato Di Là Perché Prima Mi Sono Truccata E Forse L'ho Lasciata Di La Comunque Una Matita Per Le Sopracciglia Mi È Venuto In Mente Perché Tra Gli Ombretti Ho Trovato L'altro Bottino Di Mulac Per Le Sopracciglia Usatissimo Infatti Anche Lui Poverino Quasi Agli Scoccioli Nella Colorazione Universal Deep Brown Poi In realtà Ombretti Sfusi Ne uso Veramente Pochi Ho Questo Marrone Bronzato E Glitterato Di Deborah Questo Verde Smeraldo Sempre Brillante Glitterato Di Deborah Questo Mini Set Di Catrice Di Sono Tipo Degli Illuminanti Che In realtà Io Utilizzo Sempre Nell'angolo Interno Dell'occhio Per Rendere Il trucco Bello Luminoso Sono Veramente Validi Come Illuminanti Della Zona Dell'angolo Interno Dell'occhio Ho Questo Mini Ombrettino Di Neve Cosmetics Che È Una Sorta Di Oro Molto Brillante Molto Glitterato Che Va Usato Con Moderazione Perché Sennò Va In Giro Ovunque E Fa Molto Full Out Sempre Di Neve Ho Un Nero Totale È Proprio Un Nero Forse Si Chiamava Tipo Proprio Occhi Di Gatto Se Non Nero Occhi Di Gatto Sì Molto Bello E L'ho Strausato Poi Passerei Alle Palettine Che Sono Veramente Tante 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 Parto Dalle Mini Palette Questa Veramente Vecchia Ora Io Sinceramente Non sono Troppo Fiscale Con la Scadenza Dei Trucchi Te Lanne I Mascara E Alcuni Rossetti Perché I Rossetti Avendo Telle Componenti Cerose Tendono Purtroppo Ad Andare A Mare Però Sulle Pulveri E Anche Sui Fondotinta Sono Fiscale Però Sulle Pulveri Non Mi Faccio Tanti Problemi È È Palettina Molto Molto Carina Di Se Non Erro Era Di Caspita Era Di Una Marca Garland Di Garland In Questi Colori Azzurro Blu Ma Non Troppo Carichi Quasi Tendenti Al Grigio Poi Ho La Mia Amatissima Ballettina Di Essence Sui Colori Bronzo Questa È Veramente Top Ho Fatto Anche Un Get Ready Con Questa E Non La Vendono Più È Un Drama È Veramente Bella E Credo Di Averla Pagata Tipo 4 Euro E Poi Ho Questa Palettina Di Chico Che Io Non So Perché Ho Comprato Perché Credo Sì Non Averla Mai Usata Non È Escluso Che Io La Regali Io La Butti Perché Non È Per Nulla Scrivente Ma Per Nulla Credo Sì Non Averla Provata In Negozio Altrimenti Non Me Lo Spiego Ma Ora Passiamo Al Pezzo Forte Al Pezzo Veramente Forte Che Sono Le Palettine Questa È Una Palettina Di Essence Nei Toni Del Rosa Infatti Si chiama In Love With Rose Ed È Molto Carina Nella Sua Semplicità E Come Vedete Dalle Editate La Utilizzo Piuttosto Spesso Soprattutto Questi Colori Illuminanti Questi Sono Molto Belli Poi Questa È Una Palettina Che Mi Il Secret Santa Che Abbiamo Fatto Due Anni Fa Natale Ed È Molto Carina Nei toni Appunto Del I toni Caldi Dei colori Autunnali Bellissimi Infatti Si chiama Fare Love Dove Fall È Inteso Come Cadere Ma Come Autunno Anche Quindi Molto Carino Anche Il Gioco Di Parole Poi Ho Una Palettina Di Neve Piuttosto Datata Che Faceva Parte Degli Arcobaleni E Questa È Gli Scurissimi Bella 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 Mi È Sempre Piaciuta Ora Avendo Poi Provato Anche Tante Altre Palette Successive A Questa Mi Rendo Conto Che La Sfumabilità Non Sia Eccezionale Ma I Colori Sono Belli E Mi Capita Ancora Di Utilizzarli Soprattutto Questi Due Sono Ottimi Colori Scuri Per Andare Appunto A Lavorare La Piega Dell'Occhio Poi Ho Creato Un casino Di Trucchi Davanti A me Per Sistemare Sarà Un Delirio Vabbè Questa È Un'altra Palette Che Amo Amo Tanto È La Good Vibes Di Mulag È Una Palette Di Colori Rosati Anzi Anzi No Non tanto Rosati Quanto Colori Sul Viola Sono Colori Molto Freddi A Eccezione Del Primo Che Ha Un Sotto Tono Caldo E Sono Veramente Belli Credo Che Sia Una Gamma Cromatica Che A me Stia Bene Ora Ve lo Dovrebbe Dire Qualche Esperto Di Aromocromia Però Io Credo Che I miei Occhi Avendo Comunque Una Tonalità Fredda Siano Valorizzati Da Colori Freddi Anche Se Oggi Ho Colori Caldi Quindi Vi Contratico Da Sola Però Insomma Credo Che Siano Colori Adatti A me Poi Ho la Mia Naked Uno Che Ha visto Anche lei La guerra L'ho portata Ovunque In qualsiasi Vacanza A qualsiasi Posto L'ho sempre Portata E infatti I primi due Colori Sono completamente Andati Finiti Per sempre Questi due Li stanno Seguendo A ruota E L'ho usata E continuo a usarla Veramente Tanto È l'unica Naked Che ho avuto E Bella 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 Non me ne pento Di averla presa Poi Vi mostro altre tre palette Di Mulag Che sono La Mulag Uno La different Non Mulag Uno La different Uno Che è la prima palette Che è uscita di Mulag Che è Questa L'ho usata Tanto Soprattutto La prima parte Questa qua Dei colori Naturali Questi Li ho usati Per provarli Ma Ultimamente Anche se io Amo Amo I trucchi Pazzi Amo I trucchi Colorati Davvero Però Ammetto Che per tutti i giorni Utilizzo Trucchi Un pochino Più Sobri Poi Sempre di Mulag Avevo acquistato La different Due Che come concetto Riprende un po' La Uno Nel senso che Ha alcune tonalità Naturali E altre tonalità Assolutamente Pazze Fuori di testa Questa L'ho utilizzata Un po' Meno Perché Abbia colori Molto Interessanti Soprattutto Questo è un colore Bellissimo Ma anche Il Bougie Ha colori Molto belli Ma L'ho usata Di meno Non so perché Potrei Riscoprirla E magari fare Qualche Traion Non traion Sono profusa Qualche Get ready with me Magari un po' Più strano Utilizzando colori Non convenzionali E infine La mia palette Preferita In assoluto Di sempre È La In my birthday Sud Che avete visto Tante volte Utilizzare Da me Perché È in assoluto La palette Che uso Di più Da quando L'ho acquistata È Bellissima Se puoi Siete alla ricerca Di una palette Nude Questa È veramente Eccezionale Come qualità Degli ombretti Scrivenza Colori Il fatto che Molti siano Matte Molti siano Più che Schimber Quasi Glitterati Oggi Ho usato Questa Per fare Questo Makeup Unicamente Questa Veramente Veramente Bella Mulac Non mi paga Ovviamente Mi piacerebbe Ma Ultime Tre palette E poi Abbiamo finito Con la collezione Trucchi Anche perché Questo video Ho già riempiato La fotocamera Quattro volte E lei si blocca Ogni 12 minuti Significa che È un video Infinito Infinito Ma Le ultime palette Che vi mostro Sono due palette Che avevo acquistato Dal sito Zoeva Anche Anche queste Molto Tempo Fa Veramente Molto Tempo Fa Una È una palette Di nude Che sinceramente Non uso Da parecchio Tempo Che però Contiene Dei colori Che non sono Male Devo essere onesta Anche questa Come vedete Abbastanza Utilizzata Perché L'ho portata Spesso In giro È carina Niente da dire Sono colori belli Ma rispetto Alla Consistenza Alla sfumabilità Ad esempio Dei mulac Della naked Non c'è parangone Questi sono più Dozzinali Benché Siano carini Però Diciamo che Avendone così tanti Se hai bisogno Che ne so Di un bianco Quasi Ottico Ce l'hai Quindi È una palette Che Saltuariamente Fa comodo Avere E l'altra Sullo stesso Genere Che però Utilizzo più spesso Infatti Ha dei colori Che sono sicuramente Più Consumati Questo Quasi finito È questa Che è La 88 Colori Shimmer Quando Negli anni Passati Amavo Sfoggiare Di più Tanti colori Tanti Make up Stravaganti L'ho utilizzata Davvero spesso Adesso Ripeto Prediligo Dei look Un po' più Naturali E quindi È passata Un po' Di moda Almeno Nella mia Top Top Make up L'ultimissimissima Palette Che ho E che ogni tanto Uso Ma Anche lei Un po' meno Spesso È questa Di Wicon La Be yourself Express Your beauty Every time Everywhere Che credo fosse Di una collezione Non permanente E ha questi colori E ha questi colori Belli Ho fatto parecchio Bocchissimo Vi abbia rilassato Con il mio Whispering Forse sono andata Un po' di corsa Per farvi vedere Tutto Ma appunto Voleva essere Davvero Il video Sull'intera Mia collezione Vi auguro Una splendida 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 Notte E noi ci vediamo Prestissimo 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 Con un prossimo video Buonanotte 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 ttttttttttttttttttttttt